Offri la tua vita a Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Dopo il bel tempo e periodo trascorso in America, evangelizzando come missione attraverso la parola e la musica, di nuovo qui da Strona vi annuncio il Vangelo di questa domenica. Accogliamo Matteo 22, 15 e 21. In quel tempo i farisei se ne andarono e tenerò consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei Suoi discorsi. Mandarono dunque da Lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque dì a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose Ippocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò a loro questa immagine e l'iscrizione di chi sono. Gli risposero di Cesare. Allora disse loro Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Amen. Carissimi, nelle ultime domeniche abbiamo accolto e ascoltato tre parabole. Potremmo definirle di rottura con i capi dei sacerdoti e gli anziani. Oggi e da oggi iniziano altre quattro controversie Dove Gesù, in particolar modo, nel Vangelo, nella pagina di oggi Ha a che fare con i discepoli dei farisei e con gli erodiani Cioè quei giudei che collaboravano con il potere di Erode. Gli fanno questa domanda Maestro, crediamo in te Quello che dici è legge Ma spiegaci un po' Cosa dobbiamo fare Con il tributo da dare a Cesare Dobbiamo darlielo, pagarlo oppure no? È lecito oppure no? Dicevano questo per metterlo alla prova chiaramente Perché qualsiasi risposta Gesù avesse dato Non sarebbe andata bene Sia nel pagare il tributo a Cesare, ai Romani, quindi ai dominatori Sia nel non darlo Perché allora i dominatori si sarebbero arrabbiati Per qualcosa che non andava contro la loro legge Ecco che Gesù risponde dicendo Portatemi un denaro E vedete qual è l'iscrizione, qual è l'immagine È di Cesare E quindi gli appartiene Restituiteli Quello che gli appartiene Rendete a Cesare quello che è di Cesare E a Dio quello che è di Dio E vediamo che Gesù è entrato in profondità Da questa domanda, da questa provocazione Gesù risponde dicendo Sappiate che dovete rispettare certamente L'autorità politica, sociale Ma al tempo stesso dovete distinguere la vostra vita spirituale Il vostro cammino di fede Questo sta dicendo Gesù Addirittura in questa risposta Che non è diretta Sì, date il tributo a Cesare No, non lo date È una risposta che eleva il discorso Quante volte anche noi Tra di noi Nel mondo Facciamo certi dibattiti Dove qualsiasi sia la risposta Accuseremo sempre l'altra persona Perché non ci sta Perché non ci piace Perché non siamo in comunione con quella persona Così hanno fatto con Gesù Gesù si eleva Ma la sua risposta è così profonda Che è un richiamo Al primato della fedeltà a Dio Cioè sta dicendo E ripetendo In un modo potremmo dire Implicito Le parole della legge Del Deuteronomio Sei Shema Israele Ascolta Israele Il Signore è l'unico Dio È il tuo Dio Rendi a Dio Quello che è suo E noi siamo suoi Dice il Salmo Egli ci ha fatti E noi gli apparteniamo La nostra vita nelle sue mani Quanto è importante oggi quindi Sapere elevarci Da discussioni dove Alla fine cadiamo sempre Nell'accusa Nel giudizio Nella critica Nella mormorazione E nella condanna Gesù si è elevato E dite Andiamo verso Dio Noi apparteniamo a Lui Il primato E la nostra fedeltà a Dio E Dio poi Vede e conosce Il nostro cuore Grazie Signore Gesù Per questa parola Noi oggi Vogliamo offrirti Ciò che noi siamo La nostra anima Il cuore La vita La famiglia La casa Il lavoro Vogliamo offrirlo a te Perché sappiamo Che tu ci benedici E ci doni Cento volte Tanto Quando noi Presentiamo E sottomettiamo I nostri piani I nostri progetti Le nostre difficoltà Grazie perché sei un Dio Grande Grazie perché sei un Dio Buono Vogliamo servirti Con tutto Noi stessi A te Gesù Sia sempre L'onore La gloria Per tutti i secoli Dei secoli A me Allora oggi Lo slogan è Offri la tua vita A Dio Dona Tutto ciò che sei Tutto ciò che fai E Dio ti benedirà Perché tu appartieni a Lui E quindi stai dando a Lui Ciò che è suo Grazie per avermi accolto Buona giornata E domenica A domani Ciao Carissimi Vi invitiamo al seminario online Sulla preghiera personale Dove vi insegneremo Come pregare Con la Bibbia Come ascoltare La parola di Dio Come metterla in pratica E portare grande frutto Da venerdì 27 ottobre Per quattro settimane Iscrivetevi sul nostro sito Parla Signore Parla Signore Perché il tuo servo ascolta Parla a mio Signore